Il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Cristiano Rocchetti, sta incontrando i cittadini in questi giorni soprattutto per cercare di capire quali sono le necessità degli stessi cittadini anche per rimodulare il programma dei 5 Stelle, se dovesse servire. Certo, noi abbiamo un programma già delineato e che viene da quattro anni di attenzione alla città di Teramo ma in questo periodo siamo particolarmente attenti alle esigenze dei cittadini stiamo raccogliendo anche altri spunti che possono permetterci di avere una visione più completa noi l'abbiamo scritto e l'abbiamo già pubblicato, gli altri oramai stanno ancora continuando le loro beghe interne ma noi abbiamo un programma che punta innanzitutto a rafforzare l'ufficio tecnico del comune per la parte relativa al terremoto perché pensiamo che questo sia un momento importante per la città e quell'ufficio va presidiato e osservato negli organici e nella qualità. pensiamo che sia importantissimo un'unità di progettazione per intercettare fondi comunitari perché senza quelli non possiamo fare le opere che tutti quanti vogliamo per la città e poi un piano di manutenzioni e poi abbiamo il piano di recupero del mercato coperto ma quel piano si innesta in un recupero di tutta quell'area che va dal teatro romano fino all'istituto Braga il potenziamento e rafforzamento del parco fluviale per intercettare delle frazioni che al momento non sono toccate ma che noi pensiamo sia necessario allargare perché dobbiamo riutilizzare il parco per veicolare i cittadini e il centro in un unico modo la realizzazione del polo scolastico e poi il rilancio del commercio e del turismo che va da una calendarizzazione degli eventi a carico del comune che si faccia carico quindi di fissare quali sono gli eventi con un lancio di un'app che altri comuni hanno per pubblicizzare gli eventi e anche quelli che sono i percorsi turistici dei cittadini che dovessero arrivare e speriamo di portare a Teramo Da chi la politica non l'ha mai fatta ad una campagna elettorale impegnativa come quella di un sindaco Come ci è passato? È stato un passaggio assai brusco perché effettivamente io continuo a lavorare giorno per giorno anche per l'azienda per cui lavoro quindi riesco un po' a far fatica a dimenarmi tra i due compiti però sono veramente contento della stima che mi viene riconosciuta dai cittadini terramani e anche da persone che normalmente non consideravo fossero così vicini a me invece hanno manifestato tutti un'attenzione e una fiducia che mi ha dato molto slancio e molto coraggio in questa iniziativa Il Movimento 5 Stelle a Teramo ha un vantaggio rispetto agli altri schieramenti che è partito con un candidato, non ha alleanze e dunque va per la sua strada a destra e a sinistra, nel centro-destra e nel centro-sinistra c'è ancora un po' di confusione Lei ha questo leggero vantaggio che ha l'avverte? Lo avverto, lo avvertiamo tutti in squadra e siamo abbastanza sorpresi di una lite che si protrae oramai da tempo e che non sembra sia prossima a cessare quindi speriamo continuino così e continuiamo la nostra strada